Civico Zero è un camper, è del sede dell'associazione culturale che io e Davide Pitetti abbiamo pensato di realizzare. Questa associazione nasce perché siamo due appassionati di fotografia, uscendo insieme a fotografare abbiamo pensato di realizzare qualcosa anche per gli amici, inizialmente per gli amici. Da lì abbiamo presentato il progetto a delle persone a dir poco fantastiche e poco, che sono Luigi e Betta di Bagni Vittoria, che ci hanno praticamente regalato questo camper ed era vuoto, non aveva gli arredamenti. Ed io e Davide l'inverno intero l'abbiamo restaurato così come lo vedete. Da lì è nata questa associazione, che si è prefissa il compito di portare in giro, portare lì nei luoghi dove è difficile, quindi territori dell'entroterra abruzzese, molisano, visto che noi siamo al confine sulla vallata del Trigno, di promuovere quella che sia la fotografia che tutto quello che ruota intorno alla cultura. Da lì è nata una bellissima collaborazione con il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo, che ha sposato a pieno la nostra causa. Abbiamo reso questo camper una biblioteca ambulante, una biblioteca ambulante che nel primo mese di attività ha ricevuto tantissimi libri in donazione. Siamo partiti con un evento per farci regalare dei libri, riempi il baule del sapere, si chiamava. Questo baule che abbiamo lasciato in biblioteca, quindi qualsiasi persona voleva ci regalava il proprio libro. Da lì la collaborazione con il Centro Culturale è sempre molto attiva, quindi promuoviamo mostre, portiamo in giro artisti locali. Nello stesso tempo andiamo nelle scuole, sempre con la biblioteca, perché ci sono delle lettrici formate dal Centro Culturale che viaggiano insieme a noi e quindi raccontano storie, leggono libri, letture animate per i bambini, sia della scuola primaria che della materna. Sta avendo un bel riscontro perché ogni volta che ci muoviamo nei paesini dell'entroterra, sia dell'Abruzzo che del Molise, vediamo, c'è veramente tanta risposta perché ovviamente i piccoli centri non hanno una biblioteca, gli spazi di aggregazione per i giovani e i bambini sono sempre pochi e quindi la risposta è bella e positiva. Quando non è il lettore che va in biblioteca è la biblioteca che va dal lettore, quindi possiamo dire, possiamo scrivere questa frase, la scriveremo fuori.